Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Massimiliano Varrese è al centro delle polemiche ancora una volta. L'ex concorrente del Grande Fratello è stato spesso criticato per il suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi, molto amata dal pubblico. Durante il reality show, Varrese non ha mai risposto alle critiche, ma da quando è uscito ha iniziato a minacciare vie legali a causa degli insulti pesanti e diffamatori che riceve sui social. Recentemente, l'attore e ballerino ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Fai Clap Clap, dove molti hanno trovato riferimenti evidenti a Beatrice Luzzi. Sebbene non la nomini direttamente, i versi ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Quando esco poi ti spiego. Vorrei dirti che ti odio ma faccio un passo indietro e ti perdono, richiamano alla mente dei fan del Grande Fratello alcuni momenti salienti tra i due. Le critiche non si sono fatte attendere e i fan della Luzzi hanno inondato i post di Varrese con commenti negativi. Dopo vari insulti, Massimiliano ha deciso di rispondere con decisione e ha pubblicato delle storie su Instagram dove minaccia azioni legali contro chi lo diffama. Volevo dire alcune cose alle persone che ancora mi stanno diffamando dicendo diavolerie gravi e vengono sul mio profilo usando toni violenti. Sappiate che ora non sono più chiuso nella casa. Ora vedo e leggo tutto e anche il mio penalista e partono denunce a raffica penali. Occhio a come commentate e alle parole che usate. E se venite sul mio profilo, decido io chi ci sta e chi andrà dal penalista. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.